Qui vi presentiamo le 5 migliori purificatori d'aria per auto. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. A PURSE ALTI AUTO AIRIONIZZATORE PURIFICATORE ARIA IONICO DEODORANTE. È un detergente per aria ionici negativo che si collega alle auto e alla presa dell'accendisigari del camion per migliorare la qualità dell'aria. È efficace contro tutti i tipi di odori compreso quello del fumo e agisce attivamente contro il polline e lo sporto elimina il 99% dei germi presenti in volo, promuovendo un benessere fisico e psicologico ottimale. Passando al numero 4. Ionico purificatore d'aria e ionizzatore per auto e veicoli XI Lunga 600. Questo gadget è sviluppato per creare ioni negativi in questo modo. Pubblicizza un disco rilassato e anche senza preoccupazioni. Nelitalizza gli odori di fumo cattivo e rinfresca l'aria. Aiuta a sbarazzarsi di batterie inquinanti. Infezioni e imitanti dall'aria a sub-micron de 3 e meno di 0,015 micron. Inoltre è estremamente tranquillo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Umidificatore da auto. Yokao umidifi e purificatore d'ambiente portatile USB. Il dispositivo ha la tripla caratteristica di umidificatore, detergente per l'aria, luce notturna e fornisce anche due modalità operative vapore pesante continuo o ricorrente. Può essere utilizzato nelle auto e nel camion, a casa, sul posto di lavoro ed è comodamente alimentato da qualsiasi tipo di auto e camion o caricabatterie USB. Protegge stabilmente la presa di flusso d'aria dell'automobile e si spegne automaticamente quando l'acqua si esaurisca. Allo stesso modo è arredato con un sistema di rilevamento intelligente in grado di scoprire l'alta qualità dell'aria e cambiare automaticamente la velocità di filtrazione. È comodamente acceso e spegne. Basta premere il pulsante ideale. Grazie alle sue due porte USB, ti consente di caricare vari altri dispositivi mobili quando il purificatore si mette in gioco. E infine il numero 1 della nostra lista. V-NEXT è un purificatore di aria. La sua fantastica autonomia consente un utilizzo continuo fino a 180 giorni. Si disattiva istantaneamente se il coperchio di sicurezza viene aperto involontariamente. Lo strato a tre filtri assicura la massima purezza dell'aria. Collabora con un alto costo di ioni sfavorevoli per rimuovere qualsiasi tipo di frammenti fatturati favorevolmente presenti nell'area passeggeri, garantendo un'aria completamente di alta qualità. Ideale anche per ambienti interni fino a 20 MQ. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.